Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die, The Survivor, or The Crafting Game. Come al solito io sono Amorius Piedal, benvenuto ovviamente in questo nuovissimo video. Torniamo in 7 Days to Die dopo aver lasciato tanto spazio, il giusto spazio, lo spazio che meritava, a The Walking Dead, The Final Season, l'ultima stagione di The Walking Dead. Mi raccomando, correte a vederla se non l'avete già vista. E se l'avete già vista, rivedetela perché ci sono dei punti interessanti su cui discutere. Detto questo, ma siamo a 7 Days to Die. Mi raccomando amici, supportate il canale con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Questo canale non prende neanche un euro, quindi è importantissimo, è importantissimo, straimportante supportarlo. Detto questo amici, vi ricordo che esiste la pagina Instagram, la pagina Facebook, Gruppo Telegram, dove possiamo parlare. E detto questo, direi che ci vediamo subitissimo in game. Ed eccoci in game amici, iniziamo subito, vuol dirvi che ho fatto offline la missione che ci aveva dato il trade. Cioè, bisognava andare qua, in questa zona qua, dove sostanzialmente è un porto con delle barche, un po' strane. Barche che, fatte strane se sono barche, però sono un po' bagate, diciamo. Dove dovevamo uccidere tutti gli zombie. Il problema è che è impossibile ucciderli tutti perché ha più piani in questo porto e soprattutto nella parte bassa è invaso dall'acqua e ci sono gli zombie che sono compenetrati nella terra. C'è proprio un bug, perché le barche qua davanti hanno proprio, poi magari ci capiterà di andarci a fare un giro e magari ve lo farò vedere nelle prossime puntate, le barche sono compenetrate nell'acqua fra di loro e l'acqua è compenetrata nella base, compenetrando la terra e compenetrando gli zombie. In pratica, impossibile fare quella missione. È notte, è notte, siamo nella nostra bella base. Nella scorsa puntata, è tutto buio perché posso accendere anche la mia luce nel casco, nella scorsa puntata avevamo ovviamente fatto un po' di lavori elettrici e un bel quadrino elettrico che possiamo andare ad azionare. Ovviamente le fence davanti non ci sono, le luci davanti sì, le luci interne sì, le luci dietro sì. Andiamo a vedere, eccola qua, una luce davanti, poi in realtà potremmo collegare forse quella luce lì, non lo so. Ci proviamo. Qua la luce dietro, eccola da questa parte qua. Ecco, una cosa ho notato che purtroppo, dico purtroppo, a volte, a volte, dico a volte, si azzera, la luce viene fatta ma non è che sia bellissima, si azzera la posizione di questi cavolo di cosi che non li ho messi troppo in alto, ovviamente perché, perché non li ho messi in alto? Perché sapevo che la luce era abbastanza un po' rimissiva, diciamo rimissiva. Adesso non si sono bloccati in una posizione che non era, non avevamo decisa noi, però sono giusti. Però in effetti vedete che non fanno moltissima luce, però fanno una luce, devo dire, abbastanza discreta. Ovviamente ce ne serviranno molti altri e molte altre luci per tutta la casa. Prova fatta, la luce che c'è qua non è, vedete ho tirato il cavo ma non è attaccabile, quindi non possiamo attaccarla. Questa qua, vedete, poi è accesa ma in realtà fa un cavolo di luce. Ci serviranno altre luci ed è qui che voglio farvi vedere, cambio un attimo lo strumento se no mi porto dietro il cavo, che abbiamo altre luci perché le ho trovate durante l'esplorazione. Questo grazie ai livelli che abbiamo, tipo Lucky Looter, che abbiamo ovviamente sbloccato. Questo Lucky Looter ci dà anche, forse era Lucky Looter, mi sembra di sì, vabbè, ci dà praticamente più possibilità anche di trovare cose interessanti. Uno dei livelli che voglio sbloccare è il massimo livello nel Bitter Barter, cioè la possibilità di scambiare le cose col trader, c'è questo qua. Però per farlo ci serve intelligenza livello 10. Abbiamo 6 punti da spendere, l'intelligenza è a 9 e abbiamo, e ci costa anzi 5 punti, quindi You Can, Craft, Faultless, Quality Items, cioè arriviamo praticamente al massimo, compriamola, siamo al livello massimo dell'intelligenza e Bitter Barrett compriamo anche questa e finiamo tutti i punti a disposizione. Questo vuol dire che posso tranquillamente andare a recuperare i soldini che abbiamo, beh, 18.000, oh, il Pecker ne è proprio solo uno, ce ne serve un altro. E adesso andare dal nostro amico trader, siamo al giorno 27, quindi due giorni alla luna rossa, andare dal nostro amico trader e vedere se ha oggetti nuovi e interessanti da venderci. Ma visto che è notte direi di sistemare un po' le cose. Ad esempio, non è il caso magari di mettere una lucina, visto che una ce l'abbiamo qua, ma qua praticamente non c'è manca una luce, forse è il caso di metterne magari una qua. La bella lucina qui non sarebbe male, abbiamo qua il relay, possiamo fare così e collegarla. Perfetto, vedete che adesso col casco spento migliora decisamente la situazione. Ce ne servirebbe un'altra magari da questa parte qui, se non qui. e sicuramente direi anche nell'esterno qua potrebbe far comodo. Ah, tra l'altro possiamo anche eventualmente ruotarla. No, si ruota già da sola, quindi in realtà potremmo già piazzarla magari qua davanti, da qualche parte, però inizierei dietro, sapete? Perché dietro la casa, o comunque anche qua, serve dappertutto sta roba, le luci. Quindi il fatto che le ho trovate sono molto... Il paiale lì è sempre pericoloso. Guardate, già funziona bene, devo dire. Allora, ad esempio, si potrebbe mettere qui. Ecco qua, qua, io proverei a metterla qua. Tanto è qui questo. L'unica cosa è che... Vabbè, è vero, luce esterne dietro. Potremmo attaccarlo qua, perché vi ricordo che qua sono luci dietro. Luce interne va prima qua. Quindi in realtà dovremmo collegarlo da qui, cioè da questo qua. E' vero che è fuori la luce, però potrebbe essere considerata interna. Quindi faremo così. Abbiamo luce anche esternamente, fa parte comunque della casa. Come fa parte della casa anche la luce di là, dove stavo già piazzando. Mi sono accorto adesso che vola questa luce. Per ora la lasciamo così, ma sicuramente andrà migliorata, perché la luce che vola non mi piace, non rende molto realistica la serie. Ora, sicuramente una luce la mettiamo qua, che non sta volando. Il problema è che devo rifare il giro. Bisogna fare assolutamente un ingresso di lì, perché non ho voglia tutte le volte di fare questo giro, perché vedo sempre quel maiale che mi preoccupa, che poi non è un maiale, ma va bene uguale. Ma mi preoccupa lo stesso. Che sia un maiale oppure no, o che non lo sia. Allora, là, perfetto, e abbiamo luce anche sul davanti della casa. Insomma, stiamo andando avanti un po' alla volta e stiamo mettendo luci. Ma andiamo a vedere al motore, nel motore, sul motore, vediamo quanto consuma. Allora, è qua, e abbiamo power 40 watt, massimo output 50. Quindi, attenzione, perché consuma abbastanza. Ma in realtà, qui abbiamo altri motori, abbiamo altre batterie. Quindi, possiamo già, eventualmente, mettere un'ulteriore batteria, con un max output 119 qui, e questo, farlo arrivare a 100. Quindi, abbiamo adesso tutta l'energia che ci occorre. Per quanto riguarda il battery bank, avevamo visto, tanto noto che gli zombie non si fanno vedere, il che sono abbastanza contento, vuol dire che il landmine sta funzionando. O forse anche le nostre trappole. Allora, per quanto vi dicevo, stavo dicendo, questo battery bank, alla fine, è un ottimo accumulatore di energia. Anche se, forse, funziona solo con i pannelli solari. Questa cosa è da verificare. Ora, l'altra cosa che vorrei fare è sistemare sta schifezza qui. Come qualcuno aveva scritto nei commenti, Amon, forse c'è qualcosa che costruisce. Guardate qua, un pezzettino di legno. Credo che sia questo che ostruiva, alla fine, è infatti la costruzione di questo frame qui. Ora, martellino alla mano, andiamo a sistemare anche questa cosa qua là. Perfetto, così almeno non abbiamo neanche più il buco. È anche vero che anche sta parte qua fa un po' schifo. Cioè, vorrei sistemare, mentre siamo di notte, alcuni lavoretti. Lavoretti sono, tipo, sistemare da questa parte qua tutta sta roba. Cioè, c'è ancora il coso della doccia, fantastico. Per ora lo terremo. Per ricordarci che questo era il cesso. Ma soprattutto, bisogna anche color... Bello, è caduto proprio... BAM! Bisogna anche colorarlo. Vedete, anche qua c'è questo maledetto qui. E vedo adesso che ci sono... Avevo messo delle robe... Interessanti qua, che non avevo mai finito. Molto bello, bravo Amon. Finisci le cose. Innanzi, non finisci le cose. Là! Perfetto! Ok, guardate che già è tutto molto, molto più bello. Molto, molto diverso. Qua, sarebbe un blocco qui. Lo mettiamo. Non dovrebbe rompere le scatole alla salita. Infatti, non rompe le scatole. E ora, ovviamente... Anzi, ora. Prossimamente, sarà da colorare tutta questa roba qua. Perché fa un po' schifo così. Vorrei dare un tocco di colore. Cambiare le mattonelle qua del cesso. Mettere qualcosa di più elegante. Perché questa qua è proprio la stanza dei motori. E la stanza dove... Ovviamente... Ovviamente, noi genereremo elettricità e daremo energia a tutto. Mancano gli interruttori delle trap, delle trappole, ma... Allora, l'idea poteva essere quella di spostare tutto in alto di uno e metterli qua. Ma in realtà non stanno bene. Quindi magari li metterò o di qua o di qua. Oppure farò un qualcosina. Adesso vediamo. Un po' col tempo adatteremo il tutto. Generator bank. Andiamo ad aprirlo e scopriamo che non consuma tantissimo. Molto, ma molto bene. E uno dei lavorini da fare... Che ovviamente bisogna fare... Portare, ovviamente, la fence elettrica, cioè la corrente, dietro. Allora, la tecnica è semplice. Sempre la stessa. Passi indietro e vediamo più o meno dove arriva il cavo. Quando diventa rosso vuol dire che è la massima lunghezza del cavo. Quindi in realtà si può portare già qua. Non arriva fino a qua. Peccato che lo volevo mettere qua. Però qua sì. Quindi in realtà potremmo attaccarlo qua. Io sono caduto, ma in realtà volevo attaccarlo qua. Quindi questo qua porterà l'energia dietro. Ora bisogna rifare il giro. Per fortuna qua possiamo saltare di qua, andare di qua. Intanto possiamo tirare su qua. Perché qua sapete che voglio fare... Ecco, se poi non rompo il seme non sono io. Sapete che qua voglio fare un po' di coltivazione. Ovviamente quanto riguarda la birra qua stanno crescendo. Vediamo un attimo. 3 ne ho tirati su così distruggendoli. Qua Opsid me ne dà 7. Molto bene. Ripiantiamoli se riesco. Allora qua bisogna anche sistemare la situazione. Nella prossima alfa sistemate un po'... Vi prego. Per programmatori. Sistemate un po' sta roba. Cioè fa un po' schifo piantare le piante così. Non funziona mai niente. Sì, per meglio dire funziona ma non è che siano il massimo della vita piantarle così perché si fa sempre fatica. Ok, perfetto. Abbiamo un po' di Opsid. Andiamo sopra. Tiriamo il cavo. Questi lavori. Chissà se questo è attaccabile. No, non è attaccabile. Alla fine basta questo per capire se è attaccabile oppure no. Ad esempio qua, vedete lì c'è una lampadina. Ora dovrebbe aver rotto qua da qualche parte il vetro esatto. Vedete la lampadina qui non è attaccabile. Anche se apriamo questo qua, che si potrebbe portare, non è attaccabile la lampadina lì. Ci sono cose attaccabili e cose purtroppo non attaccabili. Già presenti, già presenti intendo ovviamente. Ora andiamo qua nella nostra qua, fence elettrica dietro, tac, e l'attacchiamo ovviamente qua. Eccola qua. E ovviamente da qua inizierà ad arrivare l'energia elettrica, che poi dovremo portare dietro lì, cioè praticamente qua, quella qua, la porteremo qua per la recinzione dietro, che sarà ovviamente tutto dietro qua, fino a lì. Poi quella davanti prenderà la metà della base, giusto per intenderci. Quella dietro avrà tutto questo perimetro qua, quella davanti tutto questo perimetro qua. E saranno ovviamente le fence elettriche. Ovviamente non ci saranno solo le fence elettriche, ma bensì dovremmo anche creare le blade e le torrette anche. Quindi c'è un bel po' di cose da fare. Ci sono tante cose da fare ancora in questa nostra serie eccezionale. Ora vorrei potenziare la nostra mazza per renderla un po' più cattiva. Ne ho già una di livello 5, ne facciamo una perché spendendo i punti ovviamente adesso siamo a livello 6. Quindi utilizzeremo quella di livello 6 e questa qua la scrappiamo via. Ma oltre a scrapparla via, qual è il metodo per aumentare la cazzutaggine della mazza? Ovviamente troviamo degli addoni in giro che sono questi mood che si chiamano qua. Intanto mi hai dato dell'iron indietro. Grazie, ti ringrazio. Mettiamo via questo. Mettiamo via un po' il legno. E andiamo qua. Prendiamo la nostra mazza e la andiamo a modificare. Vedete che qua ci sono questi due qua lampeggiano perché ci dicono Ehi, questi qua vanno bene per l'attrezzo che vuoi modificare. Vi faccio un esempio. Io qua ne ho altri. Ad esempio, per esempio questo qua. Se io dovessi prendere questo e ovviamente andare sulla mazza e fare modify, vedete che questo non si accende perché questo non è implementabile, non è una modifica ammessa. Ok, quindi vi dice esattamente quali potete mettere oppure no. Ora, ad esempio, nella nostra mazza, qua abbiamo ben, questa musichetta ci dice che è finita la notte, abbiamo cinque possibilità di modifiche e ogni possibilità di modifiche ci dà delle cose in più. Ad esempio, possiamo mettere The Hunter che dovrebbe aumentare il danno. Infatti, vedete che se lo tolgo abbiamo un danno, se lo metto ne abbiamo un altro e questa che dovrebbe bruciare i nemici. E in effetti, la nostra mazza adesso è fiammeggiante. Bellissima! In più ci sono anche i colori. Questi qua sono i colori. rosa, 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 brown, black e black. Riusciremo a mettere un bel colore. Black alla mazza. Allora, in realtà, vedete che cambia colore, diventa più scura. Noi dovremmo fare così per vedere la mazza. Vedete che in effetti è nera rispetto al solito, cioè non è la mazza... Se è colorata di nero, potremmo farla eventualmente rosa oppure brown. Io adesso la mazza rosa, non lo so se è bella da vedere. Proviamo, proviamo, vediamo un po'. Sì, è rosa per modo di dire, in realtà. Sicuramente nera non è bella. È più bella rosa. Sicuramente è meglio rosa. Quindi direi di tenerla rosa, ma sicuramente direi anche di farla fiammeggiante. Rosa, mazza, fiammeggiante con botto e colpi. Una mazza... melee damage 30. Power attack damage 51. Block damage 10. Stamina cost 16. Quindi attenzione. Max turabilità 500. Fantastico. Ora io direi di andare al trade. Che dite, la proviamo la mazza? Direi di sì. Guardate qua. Non colpo forte, ma giusto un colpetto è morta. Un colpo. Una volta questa mazza qua, fiammeggiante, devasta. Quanto durerà? Non si sa. Si potrà riparare? Non si sa. Dureranno le mod? Non si sa. Di sicuro fa anche luce, oltre che infiammare gli zombie. Ed è eccezionale. Dunque alle 6 dovrebbe aprire questo cavolo di trade. Adesso la cambio, metto l'ascia, che comunque fa brutto lo stesso, però almeno non fiammeggia in giro. 5.56 del mattino, e c'è coda, come se dovessimo andare a comprare delle cose. In realtà, cioè i soldi ce li vanno meno male, in realtà dobbiamo andare a comprare delle cose. Anzi, spero sostanzialmente che dopo lo sblocco di quell'abilità lì, possiamo avere la... delle nuove cose magari ultra rare. sono le 6. Forse apra le 6.30. Ecco che è aperto! Finalmente! 6.05. Un po' in ritardo, amico. Però, ero il primo della lista, quindi vado qua. Tanto questa qua è distrutta, peccato, sennò avrei potuto usare anche quella. Comunque, il primo della lista è entramo con un'ascia in mano. E se è amico, va bene, quello che vuoi. Allora, inizialmente hai un lavoro, magari, un clear zombie, 273 metri, accettiamo, spero che non sia nella stessa zona dove era l'altro, non credo, perché da questa parte qua, quindi dovrebbe essere un cittalino. Ancora! Qua è un casino farlo, va bene, ok, però, posso vedere il tuo inventario e vediamo se ne si che esce a qualcosa interessante. Elia, Elia amici, Solar Bank, compriamone uno, e poi, Solar Cell, Cell anzi, compriamone uno. E abbiamo, il Solar Bank e il Solar Cell di livello 3. Abbiamo speso praticamente tutti i soldi, ma era quello che volevo, cioè comprare queste cose qua, vedete, arrivare alla fine, ci permette di comprare queste cose qua. Qua si compra anche la Blade Trap. Vediamo un po' cosa vuole per craftarla la Blade Trap. materiali che possiamo fare neanche in grandi quantità. Una delle cose che in realtà potremmo acquistare facilmente è questo Electrical Wire Relay, che ce ne servono un sacco, e il problema dell'Electric Wire Relay è che comunque, vabbè, è un Electrical Parts, uno dice, vabbè, amo un Electrical Parts, non è tanto. Non è tanto, però, non ne abbiamo tantissimi, e già dobbiamo fare le altre cose. Quindi, magari, qualche Electrical Relay, magari una decina, li possiamo comprare, che non ci fanno mai male. Ora andiamo a vedere qua se ha altre cose, ma già che abbiamo trovato il Solar Panel, amici, siamo avanti. Adesso siamo avanti, perché così nelle prossime puntate posso montare il Solar Panel, mettere gli altri Electrical Relay, iniziare a fare le fence, vedete, le Electrical Parts qua, lasciamoli qua, se ci servono li compriamo, anche perché si possono, ovviamente, tra l'altro, vrenciare in giro, ovviamente, ve l'ho fatto vedere, e una cosa interessante, anche, che vi faccio vedere, che cavolo c'è fuori? Un orso, immagino? Che cavolo sta succedendo fuori? L'orso! C'è l'orso! Con tutto maledetto orso! Vieni qua orso! Attacca, attacca qua! Maledetto! Finito i colpi! Attacca, che sono dentro un fortino! Maledetto! Maledetto orso, puntata che finisce col botto, amici! Cani anche! C'erano anche cane morto, cioè orso morto! Cane morto! Ricarichiamo, e abbiamo anche la carne! Stavo dicendo, guardate qua, nelle skill, ci sono anche, skill per la vrench, da qualche parte qua, ve lo faccio vedere, che, che è questo qua, dove cavolo sono? Eccolo qua! No, non sono queste! Sì, sono queste! Vrench, mi ha fatto malissimo lo stesso! Mangiamo prima di morire! Però l'ho sparato via il cane! Prendiamo la... Ah, ci ha dato la carne, quella... non ci dà la carne! Bella buona! Però ci dà l'animal fat, che possiamo utilizzarli, questo, un altro maledetto, che ci dà la carne schifosa, pensavo di avere le carne! Va bene amici, allora io direi che per questa puntata, non è ancora finita, valedetto cane! Colpito e bruciato! È tutto! Ci vediamo nel prossimo video, dove andremo avanti! Amici, like, commento, e condivisione! Davo, oggi è tutto, ci vediamo al prossimo futuro video! Ciao a tutti! Supportate il canale! Ciao! Ciao! Ciao!